Musica Bentornato Cutier, bentornata Ora si parla di una cosa veramente importante forse la più importante l'ottimizzazione del computer è uno di quei momenti in cui un dominatore del computer si manifesta nel suo pieno valore mettendo in pratica tutte le azioni che un normale utente non applica assolutamente o per mancanza di competenze o per pregrizia o perché non ha fiducia nelle stesse azioni Ma cosa significa ottimizzazione? L'ottimizzazione è un'operazione attuata per migliorare qualcosa per ottenere di più Data la sua possibile applicazione in più campi parliamo esplicitamente nel mondo informatico ancora di più per quel che riguarda i computer Ottimizzare un computer significa trasformarlo sia dal punto di vista hardware e qui possiamo riallacciarci tranquillamente alla lezione numero 79 sugli aggiornamenti ma sia anche dal punto di vista software La parte hardware oltre che eventuali sostituzioni di componenti comporta un lavoro di mantenimento dell'efficienza dei componenti stessi Saltuaramente infatti dovrai operare nel cabinet Prima di intervenire togli però l'alimentazione dal computer Sblocca almeno uno dei pannelli di copertura laterali e potrai accedere all'interno del computer La prima operazione da eseguire è un'opera di pulizia dalla polvere Procurati o un compressore d'aria oppure vai ad acquistare nei negozi specializzati delle bombonette d'aria compressa Possibilmente l'aria che dovrai utilizzare fa che sia secca Ossia senso umidità Scritto questo se non hai altri mezzi naturalmente puoi utilizzare l'unico che certamente possiedi di rimedio Ossia il tuo soffio naturalmente cerca di fare attenzione nel suo utilizzo Quando accedi alle varie ventole ad esempio durante l'operazione di pulizia è conveniente anche bloccare la rotazione delle stesse con una mano oppure con altri attrezzi facendo attenzione a non danneggiarle Questo ha maggior ragione se utilizzi un compressore ad aria Infatti la pressione d'aria può risultare dannosa se utilizzata impropriamente Se vorrai potrai anche far uso di un aspiratore per evitare di sparpagliare la polvere nell'ambiente circostante Quest'azione farà sì che all'interno del tuo computer circolerà una miglior aria in quanto le ventole non lavoreranno più appesantite quindi sarà possibile un maggior flusso d'aria che tra l'altro manterrà i livelli di temperatura del processore e del cabinet in generale migliore Dopo tale pulizia andrà a controllare il serraggio degli spinotti dei connettori dei vari componenti Infatti magari l'opera di pulizia potrebbe aver allentato qualcuno di questi connettori di questi spinotti però il metodo che maggiormente viene utilizzato per ottimizzare un computer è quello software in quanto un utente conoscitore delle strategie d'uso lo impiegherà più o meno frequentemente in base alla quantità di operazioni che eseguirà con la sua macchina Cosa sarà necessario eseguire? Andare a variare alcuni aspetti del sistema operativo e dei programmi installati al suo interno per farli lavorare in maniera più efficace in modo da risparmiare le risorse ed avere il computer più performante Questo discorso però crolla di fronte alle tue necessità in quanto potresti anche scegliere di barattare un pochino di prestazioni peggiori per ottenere un aspetto estetico migliore oppure al contrario potresti disinteressarti dei consumi energetici e quindi anche della tua spesa per estrivizzare al massimo le prestazioni e questo è quello che condivido di più In sintesi l'ottimizzazione è certamente ad personam ma è in dubbio il fatto che la cosa più importante qualsiasi operazione tu scelga non puoi non far nulla affinché il computer si mantenga in forma il succo per realizzare ciò è dotarti di programmi dedicati a migliorare la condizione di un computer dal punto di vista software l'utilizzo più o meno corretto di un computer o meglio del sistema operativo porta col tempo comunque alla creazione di scorie più o meno invadenti nel disco rigido i programmi di categoria utilizzano degli standard che sono dettati dai programmatori le aziende produttrice e quindi applicano delle azioni di miglioramento dettate da una loro politica in taluni casi saranno molto utili in altri saranno del tutto inutili ed anche rischiosi questo per indicarti che non puoi comunque agire con superficialità nell'atto dell'ottimizzazione utilizza pure tali programmi ma con cognizione di causa capisci e cerca di comprendere cosa andranno ad eseguire si ne è cosciente in modo da poter scegliere con oculatezza e soprattutto agisci in sicurezza in modo che se per qualche motivo le operazioni di ottimizzazione porteranno a dei risvolti inaspettati come blocchi di sistema schermate blu mancato riavvio del sistema operativo per perdita di qualche file tu possa ripristinare la funzionalità del sistema operativo in pochi minuti la parola d'ordine è backup ma queste informazioni didattiche le descriverò più avanti nel percorso ora torniamo a come eseguire l'ottimizzazione del sistema operativo le operazioni da attuare possono variare anche in base al tipo di sistema operativo che ha installato alcune erano assolutamente imprescindibili alla funzionalità per sistemi operativi vecchi ora con l'avvento delle nuove versioni le cose sono migliorate ed alcune operazioni possono anche essere tralasciate oppure avviate in caso di necessità come il caso della defammentazione in quanto o sono eseguite automaticamente dal sistema operativo o non sono molto rilevanti ciò in quanto avviene una migliore gestione nella funzionalità del sistema operativo stesso sono stati più bravi i programmatori ad onor di cronaca riporto comunque una lista di operazioni che dovrai eseguire con le limitazioni appena descritte che tendono a migliorare le prestazioni dei programmi dovrai saltuariamente pulire il disco rigido dovrai pulire il registro del sistema deframmentare il disco rigido deframmentare il registro del sistema operativo chiudere i processi e i programmi che lavorano in background ossia nascosti chiudere i servizi del sistema operativo che non sono necessari e infine degrada se vuoi le prestazioni grafiche se non sono espretamente richieste tutte queste operazioni sono alla portata di un buon utente ma altre ben più spinte puoi attuarle nel cuore del sistema operativo e comunque devono essere eseguiti da mani esperte come scegliere i programmi per ottimizzare un computer vista l'enorme quantità di programmi che esistono su internet se non hai esigenze particolari scegli tranquillamente tra la categoria dei programmi gratuiti esistono ottime realtà e senza dover spendere soldi che permettono di seguire operazioni dalle più semplici alle più complesse e potrai riuscire a migliorare le condizioni di un computer che a volte non vuole proprio sentirne di lavorare una piccolissima lista di programmi che normalmente utilizzo è Ccleaner Glary Utilities e Advanced System Care questi sono i tre programmi che di norma utilizzo per mantenere ottimizzato il mio computer senza nulla togliere agli altri ho trovato che questi programmi danno una grossa mano a rinsavire le performance del computer e per questo motivo anche se ogni tanto vado a testare nuovi programmi ancora non ho deciso di sostituirli in quanto il loro lavoro lo stanno svolgendo egregiamente quando ottimizzare il sistema operativo lascia di leggere un aforisma che ho letto su wikipedia i colli di bottiglia avvengono nei luoghi più incredibili quindi non provare ad inserire un trucco per velocizzare se non sai dov'è il collo di bottiglia io dico simpatico vero ma se possiamo utilizzare strumenti che sanno dover metterle le mani allora perché non agire e soprattutto se ci muoviamo in piena sicurezza dotandoci anche di altri strumenti eccellenti allora per rispondere alla domanda direi che tu sei la cartina donna sole del tuo computer cosa significa quando vedrai che le prestazioni del tuo computer iniziano a degradarsi quando non risponderà più bene quando all'avvio non mostrerà più la sua forma smagliante oppure quando ad un clic puoi prenderti benissimo una pausa caffè prima di poter avviare un programma allora non capirai che è giunto il momento di eseguire una manutenzione quindi ottimizzare il sistema operativo che non ti venga in mente di formattare il computer non ci pensare proprio usa gli strumenti adeguati la formattazione la devi utilizzare solo quando vuoi passare ad una versione superiore del sistema operativo oppure cambiarlo sì questo forse è estremo ma giusto per farti capire che non devi accedere a questa operazione ogni qual volta si presenti un problema o di prestazioni o di sicurezza sei o non sei un nominatore di computer la formattazione deve essere un evento raro oppure per chi non sa fare le cose scusa la franchezza ma il più delle volte non serve eseguire una formattazione devi capire che se parti bene sin dall'inizio nella gestione e nell'uso del computer certe operazioni diventano rarissime diffida tra l'altro di coloro che propongono questa come unica soluzione ai vari mali del computer senza aver percorso altre strade la formattazione non è cosa da poco non tanto perché sia difficile utilizzarla perché ormai già sei in grado di poterla realizzare ma al lavoro che comporta prima e dopo la sua esecuzione termino lanciando un'ipotesi di esca nel futuro in quanto più avanti nel percorso inizierò la descrizione di programmi delle varie categorie quindi anche questi ossia quelli che tendono a mantenere lo stato di salute del sistema operativo nel frattempo puoi seguire una rubrica che da qualche mese ho iniziato a curare sulla piattaforma Scoopit che ti permette di creare una sorta di magazine online all'interno di questa piattaforma filtro gli articoli di vari autori che man mano intercetto durante la mia navigazione ad internet e categorizzati in base ad una tipologia come ottimizzare il computer la rubrica non è così costante come il percorso didattico quindi non ha una cadenza di pubblicazione e condivisione di articoli ben definita ma deriva dalla mia navigazione dagli articoli che leggo durante la settimana o durante il mese a volte consulto articoli e i filtri li condivido altre volte non trovo nulla di interessante mentre in altre occasioni il poco tempo o la mancanza di voglia vanno da padrone e quindi non condivido alcun articolo questa è la url della piattaforma dove trovare questa rubrica specifica e te la riporterò nelle informazioni di questo video benissimo nella prossima lezione come sempre con nuove informazioni didattiche ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto